Fino a qualche anno fa ci avrebbero detto il futuro del giornalismo è il web, ad oggi invece qual è il futuro del giornalismo? Perché per alcuni se non per molti il web è già quasi superato. So che lo sto chiedendo al direttore di uno dei principali quotidiani italiani, qual è il domani del giornalismo? Allora, il mondo va molto a mode, qualche anno fa come sai ma fino a poco tempo fa si diceva la carta è morta, tutto il futuro è digitale. Adesso da qualche mese va di moda dire no, il web è troppa confusione, non funziona più, il futuro è della carta. Io non credevo né alla prima profezia né anche a questa seconda, non penso che il futuro sarà della carta. Penso che il futuro sarà di chi è capace di fare buon giornalismo nel senso di avere corpo, sostanza, di raccontare storie in modo credibile e che abbia cose di valore da proporre indipendentemente dalla piattaforma. E poi sia capace di fare su piattaforme diverse. Siamo in un mondo in difficoltà in cui la fiducia è merce rara. Se posso fare una critica, anzi bene che la faccia, al giornalismo è che il giornalismo per troppo tempo non è stato capace di mettersi in discussione, di farsi le pulci e di cercare di cambiare. Io penso che la cosa più sana che può fare oggi il giornalismo è di, anziché difendersi, di preoccuparsi delle critiche, cercare di essere all'altezza dei propri lettori.